Manuel Belletti, innanzitutto come hai scoperto il ciclismo? Ho scoperto il ciclismo grazie a mio babbo. Mio babbo è stato dilettante, ha corso in bicicletta fino alla categoria di dilettante, è stato in compagnia di atleti assieme a Cassani e quindi è stato lui che mi ha indirizzato al mondo delle due ruote sulla bicicletta. Il tuo idolo quando eri bambino? Beh, questa è una domanda semplicissima. Il mio idolo è sempre stato Marco Pantani, io ho iniziato a correre anche guardando lui in tv. Il tuo ideale di corridore oggi? Ma guarda, io vedo che ormai bisogna essere corridori completi, quindi direi un corridore con caratteristiche sia da scattista che di buon tenuto in salita. Manuel, tu hai vinto una tappa del Giro d'Italia, per molti è il sogno di una vita, come ha cambiato la tua vita? Ma la mia vita non è cambiata, nel senso che sono restato il ragazzo che ero prima, ho avuto la fortuna di vincere questa tappa, fra l'altro in casa. C'è gente che è professionista da tanti anni e non si è mai riuscito a vincere una tappa, quindi mi ritengo particolarmente fortunato, però la mia vita non è cambiata, è rimasta quella di prima. Cosa significa per te la salita? La salita è sofferenza, soprattutto per corridori come me che fanno della velocità al loro punto forte, in salita soffriamo parecchio. Cosa significa per te la volata? La volata è adrenalina pura, quando arrivi lì in certe circostanze ti trovi a dover passare in degli spazi che normalmente pensi sia impossibile passarci, quindi si chiude gli occhi e si va. Manuel, la corsa che sogni di vincere? Beh, la corsa dei miei sogni, l'ho sempre detto, la Milano-Sanremo. Purtroppo negli ultimi anni mi ha sempre respinto, io continuo a sognare. Purtroppo quest'anno non saremo al via della classicissima e spero in futuro di poter prendere parte. Vediamo. I tuoi obiettivi per questa stagione? I miei obiettivi sono vincere il più possibile. Ho iniziato alla grande la stagione vincendo la prima corsa, ci tenevo particolarmente perché per me quest'anno è un anno di grande rivincita e voglio dimostrare ad alcune persone che ci sono sbagliate. Cosa significa per te praticare uno sport di squadra? Sport di squadra ti forma, ti forgia soprattutto anche nella vita, ti fa capire che con l'aiuto delle persone che ti stanno vicino puoi fare cose che magari non pensi di riuscire a fare. I tuoi interessi al di fuori del ciclismo? Io sono appassionatissimo di pesca, spinning e quando ho tempo libero, soprattutto per rilassarmi, vado a pescare. Manuel, un tuo punto forte? Il mio punto forte? Non saprei, sicuramente l'onestà e avere vicino persone che mi vogliono bene. Un tuo punto debole? Sono abbastanza testardo, che a volte può essere un prezzo ma forse più volte si può rivelare un difetto. Cosa pensi che ti abbia insegnato questo sport? Ma questo sport è disciplina, è sacrificio, quindi mi ha insegnato tanto. Io lo consiglierei a tutti i giovani ciclisti che vogliono intraprendere questa carriera. È uno sport che ti forgia, è uno sport che ti fa crescere. E il tuo consiglio, concludendo, ai giovani ciclisti che vogliono intraprendere questa carriera? Il consiglio è di inseguire i propri sogni, perché uno dei miei sogni l'ho realizzato, ho vinto una tappa in casa al Giro d'Italia, che sognavo da una vita. Quindi i sogni a volte si avverano e posso dirvi di crederci sempre che può succedere che centriate l'obiettivo. Grazie. 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 Grazie.